Un saluto a tutti voi e bentrovati. Oggi volevo affrontare un tema che è stato dibattuto per anni e anni, che ha risolto la Cassazione a Sezioni Unite nei mesi scorsi, ed è quello relativo alla prescrizione delle cartelle esattoriali a seguito di notifica in caso di mancata opposizione. Mi spiego meglio. Nel caso di sentenze giudiziali o nel caso di decreto ingiuntivo di passato in giudicato, la prescrizione sottostante al diritto che la parte ha, si trasforma da quinquennale in decennale per il solo fatto che la sentenza è uscita da un vaglio giudiziale e quindi acquisisce un valore maggiore e quindi merita un tempo di prescrizione più lungo. Una fetta della giurisprudenza ha dato efficacia identica alla notifica della cartella esattoriale, cioè aveva stabilito che anche in caso di cartella esattoriale notificata e non opposta, la prescrizione fosse decennale, soprattutto per i tributi erariali l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP, quelli che nascono dall'agenzia dell'entrata. Il problema qual è? È che la notifica delle cartelle ha dimostrato la storia che non ha sempre una validità ed efficacia piena, anzi che il sistema di notifica ha manifestato tutta una serie di falle e di difficoltà che sono state poi devastanti per i contribuenti. Quindi la questione è stata devoluta alle sezioni uniti della Cassazione anche su spinta della giurisprudenza di merito. Io voglio segnalare per esempio la Commissione Tributaria regionale di Palermo con la sentenza 496 34 del 2011, la CTP di Reggio Calabria con la sentenza 2634 del 2014, avevano stabilito già a priori che senza il 2948, siccome anche le imposte erariali hanno carattere di periodicità, la prescrizione post notifiche della cartella esattoriale doveva essere necessariamente quinquennale e non decennale. La questione riguarda anche i contributi previdenziali, erano fuori da questo ragionamento i tributi locali perché già per i tributi locali nel 2010 la Cassazione ha stabilito che essendoci una periodicità a cadenza annuale e la prescrizione è quinquennale, non si comprende quale sia la differenza tra l'Imu e l'Irpef, però questo è il ragionamento fatto dalla Cassazione. Sono appena intervenute le sezioni unite con la sentenza 23397 del 17 novembre 2016 e hanno consolidato il principio per cui, io ve lo voglio leggere perché è molto importante, il consolidamento della pretesa non determina il mutamento della prescrizione da quinquennale a decennale, ma determina solo l'irretrattabilità. Vi leggo solo la parte iniziale perché è lunga. È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio è stabilito per opporso impugnare l'atto di riscossione mediante ruolo o comunque riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, quindi non si può più contestare il credito, ma non determina l'effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quell'ordinario decennale. Quindi il senso, tutti gli atti che sono stati emanati a mezzo di cartella esattoriale o di avviso di accertamento dell'Agenzia dell'entrata non opposto, ormai si prescrivono in 5 anni e non in 10. C'è qualcuno che sta sostenendo che questo principio vale solo per i contributi previdenziali, vi garantisco che la sentenza letta cum granosalis, dicevano i latini, espressamente parla di tutte le poste attive sia dell'Inps che dell'Agenzia dell'Entrata e quindi anche dei tributi erariali. Un grande passo in avanti sotto il profilo della tutela dei contribuenti, sperando che la Cassazione mantenga fermo questo principio. Un saluto, vi aspetto alla prossima puntata. Grazie.